Buongiorno, Bikini Bottom! Buongiorno, Sandwich! Mi portano via Bikini Bottom! Basta! Che c'è? Le ho lavate le mani! Che roba è? Buongiorno! Laboratorio di Biologia Marina? Tutte le persone che amo sono... ...valito! Dobbiamo salvare i nostri amici! Andiamo, SpongeBob! Non mi avevi mai detto di essere uno scogliattolo volante! Poi mi fanno tremolare la membrana, vedi? Che membrana birichina! Tieniti forte! I nostri amici sono laggiù! Andiamo, SpongeBob! Ma la strega ha intenzione di Quindici come giocattoli! Lascia! Perché non hanno scelto me? Mi sembra di essere tornato ai tempi della scuola! Sandy, ci serve aiuto! So, ci devo chiamare! Six Funiti! Capito! Questa è la tua famiglia, Sandy! Esatto! Ti aiutiamo a portare in salvo i tuoi amici! Siamo a posto! Reggetene i mutandoni! Mi sa che non ho dato loro i paracadute! No, tranquillo, amico! Nove spugne su dieci preferiscono la lozione super idratante di Sandy Six! Effetti collaterali, voglia di cucinare, porosità e ottimismo cronico. Sconsigliato tutte le non-spugne! Ero! Ecco! Ottimo! Viagra di stare! Time! Ahi! Alla prossima! Buttacolo! Arrizio!